Questo video riguarda i migliori tre panche per addominali a casa. Il vincitore della qualità è il Relax Days Panca Declinata. Con questa panca potrete comodamente allenarvi a casa. Grazie ai blocchi imbottiti per i piedi e alle maniglie si possono eseguire numerosi esercizi. In questo modo potrete potenziare gli addominali e la muscolatura della schiena. Inoltre potrete scegliere la difficoltà degli esercizi in base alla vostra forma fisica. L'altezza della panca sit-up è regolabile su sei livelli. Così avrete la possibilità di allenarvi con sollevamenti delle gambe, sit-up, flessioni e crunch. Per principianti e professionisti. Rinforza la muscolatura di schiena, addome, gambe e braccia. Delicato su pelle, piedi e articolazioni. Esercizi da eseguire anche con l'aiuto di pesi. Sit-up a testa in giù su panca inclinata. Per sit-up, sollevamenti delle gambe, crunch, ecc. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Physionics Panca per addominali. Concedetevi un allenamento speciale con questa panca multifunzione efficace. Non solo sarete in grado di rafforzare il vostro core con l'aiuto di questa panca declinata regolabile, ma anche di tonificare i muscoli della schiena e modellare le braccia usando i manubri e le corde elastiche che fanno parte del set consigli per esercizi efficaci e sicuri sono disponibili nel manuale allegato, dove potete trovare anche le istruzioni riguardanti il montaggio comprensibili e dettagliate. Dispositivo di fitness multifunzionale. Panca per addominali con manubri e corde. Allena i muscoli addominali, le braccia e la schiena. Robusta struttura in acciaio con imbottitura in morbida schiuma rivestita in similpelle. Regolabile in 5 posizioni. Il vincitore del premio è il DRIPEX Sit-up Bank. Lo schienale dell'attrezzo per addominali ha un gambo in schiuma ad alta densità che si adatta alla curvatura della muscolatura della schiena e ti tiene lontano da tensioni muscolari durante l'allenamento. Il DRIPEX Sit-up Trainer ha un design di base triangolare per aumentare il sostegno e la struttura complessiva è più stabile. La portata massima è di 120 kg. Il dispositivo per addominali è leggero e portatile e si piega rapidamente. Può essere utilizzato a casa, è anche facile da trasportare ed è adatto per l'allenamento in diversi luoghi. L'allenamento è più comodo e illimitato. Con questo attrezzo per l'allenamento di tutto il corpo allenerai efficacemente i muscoli addominali, torace, braccia e gambe. Il sedile girevole permette di allenare tutto il corpo. Se si desidera ottenere una figura migliore e non ha tempo di andare in costose palestre, provate questo attrezzo per l'allenamento per tutto il corpo. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.